Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ciao Genova, ma ciao anche a chi viene da Savona, da Imperia, dalla Spezia, anche dalla quinta provincia della quale noi gente ignorante di destra non conosceva l'esistenza. Benvenuti a tutti, grazie di essere qui, grazie per questo entusiasmo che è per me, per noi, una bella boccata d'aria, una iniezione, diciamo così, di entusiasmo, poter passare del tempo con voi, guardarci negli occhi, noi trasformiamo quell'entusiasmo in benzina, che poi ci serve per poter continuare il nostro lavoro molto complesso e molto difficile. Questo entusiasmo mi fa ben sperare davvero... State seduti che sennò dietro non vedono. Questo entusiasmo, diciamo, mi fa anche sperare bene e mi rende ottimista anche sui risultati di domenica, di lunedì, per le elezioni del rinnovo del Presidente della Regione Liguria. Fino a qualche settimana fa la sinistra già cantava vittoria, noi attraversavamo sicuramente, ci siamo ritrovati ad attraversare una situazione difficile e loro già, diciamo, pregustavano qui in Liguria una vittoria schiacciante. Poi hanno dovuto tornare a fare i conti con la realtà e la realtà è che il centrodestra in questi anni ha fatto conoscere alla Liguria una bellissima stagione di sviluppo e di rilancio e che i cittadini della Liguria si rendono conto che sarebbe un peccato interrompere quel lavoro. La realtà è che, come dicevano Maurizio, Antonio, Matteo, noi siamo una coalizione compatta che sta insieme per scelta, che non sta insieme per interesse o semplicemente perché condivide un nemico pur non condividendo delle idee e questo fa la differenza. Fa la differenza rispetto a qualsiasi campo largo, perché il punto non è mai quanto il campo sia largo, il punto è sempre quanto quel campo è coeso, quanto sia in grado di condividere insieme una visione e questo accade nel centrodestra. E la realtà è che noi proponiamo ai cittadini della Liguria di continuare e di rilanciare questo lavoro che è stato fatto in questi anni e lo facciamo mettendo in campo l'uomo migliore che il centrodestra Ligure potesse vantare e quell'uomo è Marco Bucci. E io non smetterò mai di ringraziare Marco per aver accettato di mettere la stessa passione, la stessa energia, la stessa determinazione che ha fatto innamorare di lui i cittadini di Genova a disposizione dell'intera regione. So che per lui non è stata una scelta leggera, so che per lui non è stata una scelta facile, credo che quello che Marco sta facendo per la sua città, per la sua regione, per la nazione intera sia uno straordinario insegnamento. Voglio dirlo anche io che considero osceno che la salute di Marco Bucci sia stata utilizzata come elemento per attaccare Marco Bucci. Tutti noi e Marco sappiamo che il punto non è mai quanto tempo abbiamo a disposizione, il punto è sempre come usiamo quel tempo. E Marco sceglie di usare il tempo che ha come io scelgo di usare il tempo che ho per la sua gente, per la sua terra. Quelli che lo attaccano dovrebbero piuttosto insegnare cosa sia l'onore e il coraggio di una persona del genere. E quindi noi siamo fieri di lui e vogliamo ringraziarlo. E sappiamo che con Marco possiamo fare un lavoro straordinario. Sappiamo che con Marco questa regione può ancora dimostrare tanto, che può ancora dare molte soddisfazioni ai suoi cittadini, alla nazione nel suo complesso. Noi qui possiamo costruire una filiera di governo che dal comune passando per la regione fino al governo nazionale è fatta di gente che rema tutta nella stessa identica direzione. E quello che abbiamo imparato in questi due anni, perché questi sono anche tre giorni fa che abbiamo celebrato i nostri primi due anni di governo, quello che abbiamo imparato è che quando lavori tanto, quando fai il massimo, quando non credi ai limiti che altri vorrebbero importi, puoi raggiungere dei risultati sui quali nessuno avrebbe scommesso. È un po' quello che ci è accaduto in questi due anni. Quando noi ci siamo insediati, vale la pena di fare mezzo passo indietro, quando noi ci siamo insediati, l'Italia e l'Europa uscivano dalla crisi pandemica, erano appena entrati nella tragedia della guerra in Ucraina, tutte le nostre certezze erano state rimesse in discussione, l'Italia si presentava di fronte a questo scenario, al quale poi si è aggiunto anche quello del conflitto in Medio Oriente, con l'ennesimo governo che cambiava dopo un anno e mezzo, con un debito pubblico che valeva 2750 miliardi di euro, con lo spread a 220 punti, un'inflazione che sfiorava il 9% i prezzi dell'energia fuori controllo. Si presentava con la vittoria di una maggioranza di governo che aveva portato per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana una persona che veniva dalla destra a capo del governo e per di più una donna. Era un mix che diciamo per molti sarebbe stato esplosivo, che la sinistra dipingeva addirittura come apocalittico, infatti secondo me ce l'hanno col ministro Giulio per l'apocalittismo difensivo perché in realtà se l'erano inventati loro. I pronostici più accreditati di questa vicenda erano dureranno massimo sei mesi, arriverà la tempesta finanziaria, l'Italia andrà in default, a livello internazionale nessuno vorrà neanche stringere la mano a Giorgia Meloni e l'Italia sarà totalmente isolata. Poi si sono svegliati tutti i sudati. Quando io mi sono insediato ho fatto una promessa e quella promessa è che noi avremmo stravolto tutti i pronostici e dopo due anni dobbiamo chiederci chi aveva ragione. Però vedete, qualche dato ci può aiutare perché sono basati due anni di lavoro di un governo che ha la schiena dritta e le idee chiare per passare dalla nazione che veriva sempre citata tra i cosiddetti PIGS, acronimo che significa in inglese maiale, alla nazione che oggi viene presa a punto di riferimento da molti analisti internazionali, sono analisi che curiosamente non troverete su buona stampa, buona parte della stampa italiana, ma che esistono su quella internazionale. Il quadro dal quale partevamo, ve l'ho detto, il quadro nel quale siamo oggi è il seguente. L'Italia oggi cresce più della media dell'eurozona, più della Francia, più della Germania, più dei livelli pre-crisi 2008. Lo spread da quando ci siamo insediati, riferimento che piace molto ad alcuni analisti, è sceso di 100 punti. La borsa italiana nel 2023 ha fatto registrare la performance migliore d'Europa. Per la prima volta noi siamo diventati la quarta nazione esportatrice al mondo. Abbiamo l'inflazione più bassa tra le economie del G7 e una delle più basse all'interno dell'Unione Europea. Un'agenzia di rating ha rivisto in positivo il giudizio verso l'Italia, era una cosa che dal 1986 ad oggi era accaduta solamente tre volte. Il dato secondo me più interessante è che qualche giorno fa abbiamo messo sul mercato 13 miliardi di euro di titoli di Stato italiani e sono arrivate richieste per oltre 200 miliardi di euro. È il dato più alto di sempre in Italia, è il secondo record più alto in Europa ed è il valore che si riconosce al sistema produttivo italiano quando c'è una classe politica capace di garantire stabilità e capace di indicare una visione. Poi ci sono i dati sull'occupazione. Noi abbiamo il tasso di occupazione oggi più alto da quando Garibaldi ha unificato l'Italia, abbiamo il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 17 anni, crescono i contratti stabili, diminuisce il precariato e crescono i lavoratori autonomi che è un altro elemento molto importante perché vuol dire che sempre più gente è pronta a mettersi in gioco. E a dispetto delle femministe che pensano che la parità si raggiunga facendosi chiamare la Presidenta, io dico che sono che mi faccio tranquillamente chiamare il Presidente e sono fiera di essere al capo del governo in cui il tasso di occupazione femminile raggiunge il più alto livello di sempre perché questa per me è la parità. Cari e amici e della sinistra o e, non lo so, significa che va tutto bene? No. Significa che la strada è giusta. significa che è tutto merito del governo? No. Lo abbiamo detto cento volte. Il merito è delle aziende e dei loro lavoratori. Il merito è del sistema produttivo italiano. Il punto è se il governo, la politica, sono in grado di fare la loro parte, di accompagnare quel sistema produttivo invece di mettergli i bastoni tra le ruote, di capire il valore che ha quel sistema produttivo invece di considerarlo come un avversario. ed è l'approccio che noi abbiamo cercato di imprimere perché io penso che se il sistema produttivo sa che ha un governo che gli cammina a fianco, che ha le spalle coperte dalla politica per quello che la politica può e deve fare, e beh, allora la gente lavora di più meglio, lo fa più volentieri. E noi abbiamo tentato in tutti i modi di dare questo messaggio. Abbiamo appena parato la nostra terza legge di bilancio, una manovra di buonsenso che si concentra sulle priorità reali, non butta neanche un euro in cose cretine e lo fa tenendo i conti in ordine e senza aumentare le tasse dei cittadini. E le priorità sono sempre le stesse per noi. Sostenere il potere d'acquisto degli italiani, particolarmente quelli con i redditi medio-bassi, mettere in tasca più soldi ai lavoratori, taglio del cuneo fiscale, noi abbiamo messo circa 100 euro in più al mese a ogni lavoratore con reddito fino a 35.000 euro, con questa manovra arriviamo a 40.000 euro, seppure con un decalage e rendiamo questa misura strutturale. E poi incentivare l'occupazione, aiutando le imprese che assumono con una forte detassazione per le nuove assunzioni, quello che noi chiamiamo il più assumi, meno paghi. E poi aiutare le famiglie con i figli, lo ricordava Maurizio, lo ha ricordato Antonio, con il terzo mese di congetto parentale retribuito all'80%, allargando le iniziative per la decontribuzione delle mamme lavoratrici, che prima era solo per le mamme dipendenti, adesso lo allarghiamo anche alle lavoratrici autonome, istituiamo un contributo di 1.000 euro alla nascita di ogni figlio e poi la sanità. E qui. Io ho sentito dire un po' di tutto. Allora, nella storia d'Italia nessun governo ha mai messo sulla sanità quanto questo governo. La sinistra, che chiaramente diciamo non ha, non si fa problemi a dire cose che non corrispondono alla realtà, sostiene il contrario, però fortunatamente la matematica non è un'opinione. Allora potete giudicare voi, facciamo una cosa facile. Nel 2019, ultimo anno prima del Covid, quindi prendiamolo come anno di riferimento, al governo c'era la sinistra. Nel 2019 sul Fondo Sanitario Nazionale c'erano 114,5 miliardi di euro. Nel 2025, con questa manovra, ci saranno 136,5 miliardi di euro. Ce l'avete il telefono? Prendete la calcolatrice un attimo, dai. Dai, qualcuno prendete la calcolatrice. Dai. Prendete la calcolatrice e fate. 136,5 meno 114,5 quanto fa? 22 miliardi di euro di differenza. Dal 2019 a oggi sul Fondo Sanitario ci sono 22 miliardi di euro di differenza. Fermi. Facciamo un'altra prova. Quanto spendeva lo Stato italiano nel 2019 per ogni cittadino sulla salute? Ok? Spendeva 1.919 euro. Quanto spenderà nel 2025 lo Stato italiano per ogni cittadino sulla salute? Spenderà 2.317 euro. Prendete la calcolatrice. Vai. 2.317 meno 1.919 quanto fa? 3.98. Lo Stato italiano nel 2025 spenderà quasi 400 euro a cittadino in più rispetto a quello che accadeva nel 2019. Come si faccia a sostenere che questo significa tagliare i soldi sulla sanità per me è un assoluto mistero. Poi certo può essere che a sinistra siano proprio scarsissimi in matematica e gli regaleremo una calcolatrice e vediamo se riescono a fare questo calcolo. se c'è un po' di onestà intellettuale poi l'onestà intellettuale a me pare che difetti perché ieri Giuseppe Conte due giorni fa ha scritto un post nel quale insultava il governo perché noi abbiamo aumentato troppo poco le pensioni minime. Ora mi corrobbio di ricordare che è stato questo governo appena arrivato con la sua prima manovra a portare le pensioni minime a 600 euro che abbiamo in questa legge di bilancio cercato di fare qualcosa di più però certo che avremmo voluto aumentarle di più perché non l'abbiamo potuto fare? ve lo dico perché non l'abbiamo potuto fare. Sapete quanto vale la legge di bilancio per il 2025? 30 miliardi ammazza siete preparatissimi voi vale 30 miliardi di euro sapete quanto costerà il super bonus allo Stato italiano nel 2025? 38 miliardi di euro più dell'intera legge finanziaria sapete di quanto avrei potuto aumentare ogni singola pensione minima con i 38 miliardi di euro che Giuseppe Conte ha utilizzato per ristrutturare le case prevalentemente seconde case solamente per il 2025 20 mila euro per ciascuna pensione minima ci vuole veramente diciamo una faccia di marmo di Carrara per sostenere che si sarebbe che si sarebbe dovuto fare di più noi abbiamo messo diciamo le poche risorse che avevamo dove servivano in molti casi non avevamo quelle risorse dove le abbiamo prese una parte di quelle risorse le abbiamo prese grazie al fatto che abbiamo fatto una riforma fiscale che costruendo un approccio diverso tra lo Stato e il contribuente ha fatto entrare anche più risorse nelle casse dello Stato il resto lo abbiamo preso tagliando la spesa di ministeri tagliando la spesa pubblica e lo abbiamo preso da banche e assicurazioni un'altra cosa che non vuole essere diciamo una risposta punitiva ma un'altra cosa che nessun governo prima di noi aveva avuto il coraggio di fare men che meno la sinistra che oggi ci invoca a gran voce la tassa sugli extra profitti delle banche poi però quando stavano al governo con i soldi degli italiani le banche le salvavano PD oppure con i soldi degli italiani garantivano i prestiti che le banche dovevano dare alle imprese compreso quello da 6 miliardi e mezzo che abbiamo dato alla Stellantis degli Elkan quando aveva già traslocato in Francia perché loro sono così quando stanno all'opposizione sono Robin Hood e quando vanno al governo diventano lo sceriffo di Nottingham tutto bello invece noi diciamo abbiamo un'altra mentalità allora a differenza di quello che accadeva prima noi diciamo siamo un governo che non è supino siamo un governo che però vuole aiutare le imprese i lavoratori vuole aiutare l'economia e che cerca di spendere al meglio le risorse le poche risorse che ha le poche risorse che ha e lo abbiamo fatto col PNRR liberando 12 miliardi di euro per le imprese di questa nazione con una revisione del PNRR che ci si diceva che non si poteva fare e che ci avrebbe portato a perdere tutti i soldi non è andata così oggi l'Italia è la prima nazione per realizzazione del PNRR in Europa l'abbiamo fatto rivedendo i fondi di coesione riformando i fondi di coesione per terminare questo pessimo malcostume di vedere miliardi di euro che servono per combattere la disparità tra i territori che non vengono spesi dalle nostre amministrazioni è grazie a quel lavoro che ha fatto questo governo se oggi l'Italia pare esprima esprimerà un vice presidente della commissione europea con la delega proprio al PNRR e alla coesione credo che sia una vittoria italiana della quale dobbiamo andare fieri e penso che sia un'occasione anche per farsi ascoltare di più in Europa come su alcune cose siamo riusciti già a fare penso al tema dell'immigrazione un tema sul quale noi in questi due anni abbiamo completamente modificato l'approccio quando noi siamo arrivati si parlava di immigrazione si parlava solamente di come redistribuire i migranti oggi si parla solamente di come fermare l'immigrazione illegale di massa è stata soprattutto grazie al lavoro che l'Italia ha fatto in questi anni con un approccio serio con un approccio pragmatico che riguardava sì le politiche nazionali ma che riguardava anche le politiche europee abbiamo convinto l'Europa a stipulare dei a stipulare degli accordi dei memorandum con i paesi del Nord Africa che furono contestati anche allora dalla sinistra siamo andati avanti e i risultati cominciano a darci ragione quest'anno dall'inizio dell'anno meno 60% di arrivi irregolari in Italia rispetto all'anno precedente meno 30% rispetto al 2022 mentre aumentano i rimpatri rispetto al 2022 più 34% dei rimpatri e poi abbiamo portato avanti idee innovative sempre per affrontare la questione migratoria il famoso protocollo tra Italia e Albania che desta interesse a livello internazionale destra molto interesse a livello europeo è una soluzione nuova nel pieno rispetto del diritto internazionale che secondo me potrebbe aprire un'epoca completamente nuova nel governo dei flussi migratori lo so io lo sanno in Europa lo sanno anche i sostenitori dell'immigrazione senza regole che stanno mettendo in campo tutti gli strumenti dei quali dispongono per bloccare questa iniziativa lo avevo messo in conto e voglio dire che vi garantisco che supereremo tutti quegli ostacoli che il protocollo funzionerà sono pronta a lavorarci giorno e notte supereremo ogni interpretazione forzata delle norme ogni sentenza irragionevole ogni attacco politico ogni tentativo della sinistra di chiedere il soccorso esterno semplicemente perché non è capace di fare il lavoro che deve fare in patria e voglio dire che considero vergognoso che i parlamentari del partito democratico abbiano chiesto compattamente alla commissione europea di aprire una procedura di infrazione per il protocollo Italia-Albania contro l'Italia è vergognoso che parlamentari rappresentanti degli italiani chiedano all'Europa di intervenire contro l'Italia per una iniziativa votata dal Parlamento italiano e guardate non è un attacco che fanno al governo è un attacco che fanno ai cittadini perché che cosa succede quando c'è una procedura di infrazione che devi pagare ci sono nazioni che pagano un milione di euro al giorno per le procedure di infrazione che hanno aperte e quindi non è un attacco al governo è un attacco ai cittadini perché evidentemente la sinistra pensa che dobbiate essere puniti per non aver votato per loro ma questo è vergognoso i 5 Stelle invece ragazzi dopo ne parliamo i 5 Stelle invece chiedono che sia hanno detto hanno detto che ci vediamo dopo no? ci vediamo dopo ci vediamo dopo ci vediamo dopo ragà ci vediamo dopo ci vediamo dopo ci parliamo ci vediamo dopo ci parliamo ci vediamo dopo ci vediamo dopo e ne parliamo allora dopo di che ci stanno e fatemi perché sennò poi non c'ho tempo poi allora devo andare veloce allora i 5 Stelle invece dicono che il governo deve essere condannato per danno erariale per aver messo i soldi sul protocollo dell'Albania come se quei migranti se stanno a Lampedusa e non in Albania non costassero allo Stato Italiano ma poi voglio dire i 5 Stelle i 5 Stelle con poco meno di quello che noi spendiamo sull'Albania ci compravano in monopattini per non parlare super bonus le truffe sul reddito di cittadinanza i soldi che sono stati elargiti proprio a piene mani nel mondo del cinema senza criterio altra riforma che ha fatto questo governo del quale io vado fiera ho sentito che alcuni registi hanno detto che una riforma del cinema pesa registi di sinistra hanno detto che una riforma del cinema pessima ve lo dico io che cosa è pessimo è pessimo dare un contributo di 1.300.000 euro per un film che viene visto da 128 spettatori è pessimo dare un contributo di 700.000 euro a un film visto da 29 spettatori sono 25.000 euro a spettatore è pessimo dare un contributo di 2,1 milioni di euro a un film per cui solo il regista si prende 2 milioni di euro questo è pessimo e sono fiera di aver fatto questa riforma e allora tornando all'immigrazione alla indomani vado verso la chiusura all'indomani dell'ennesima sentenza con la quale alcuni giudici bocciano il trattenimento dei migranti ai fini del rimpatrio e fanno trasferire dall'Albania all'Italia migranti che arrivano da paesi sicuri un giudice manda ad altri una mail nella quale c'è scritto Meloni non ha inchieste giudiziarie e non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte e rende molto più pericolosa la sua azione Fer ringrazio ringrazio e confermo non agisco per interesse personale agisco per convinzione so di essere un problema per questo so di essere un problema per questo per alcuni ma non per la maggioranza neanche per la stragrande maggioranza di magistrati che vogliono solo poter fare bene il loro lavoro e non ne possono più delle correnti politicizzate della magistratura e quindi andremo avanti anche con le riforme giustizia premierato autonomia faremo quello che va fatto in questa nazione per consegnarla a chi verrà dopo di noi in condizioni migliori di come noi l'abbiamo presa da chi veniva prima di noi lo faremo anche nonostante l'opposizione feroce di quelli che non vogliono mai cambiare niente magari per potersene lamentare o magari per poter utilizzare i problemi che ci sono andremo avanti perché sono riforme fatte bene sono riforme giuste sulla giustizia dicono che noi vogliamo il controllo della politica sulla magistratura veramente quello che dice la riforma della giustizia è che il Parlamento non elegge più una parte del CSM quindi casomai lo togliamo il controllo della politica dalla magistratura con il premierato dicono che noi vogliamo mettere tutto il potere nelle mani di una persona sola ma noi non tocchiamo i poteri del premier noi vogliamo semplicemente restituire ai cittadini un potere che è stato negli anni tolto ai cittadini con l'autonomia differenziata dicono che noi vogliamo spaccare il nord e il sud perché erano uniti bella notizia a me pareva che fossero già parecchio divisi e mi pare anche che questo governo abbia dimostrato con serietà e investimento che il sud può tornare a essere una locomotiva se non pensi che debba essere mantenuto con i sussidi e se capisci che la sfida è farlo competere a darmi pari lo stiamo facendo noi non l'hanno fatto loro allora vedete questo è stato un pezzo del nostro lavoro in questi due anni abbiamo fatto per la verità molto di più di quello che siamo riusciti a raccontare però e voglio dirlo a tutti in questa sala io posso spiegare ogni singolo provvedimento che abbiamo fatto in questi due anni lo posso fare guardando la gente negli occhi perché tutto quello che faccio lo faccio per convinzione non ho una seconda agenda non ce l'abbiamo mai avuta e probabilmente è per questo che nonostante la situazione impossibile che ci siamo trovati ad affrontare a differenza di quanto è accaduto per i passati dieci governi si dice che oggi il consenso di questo governo sia superiore al consenso che aveva quando si è insediato a me interessa solamente questo tutto il resto si affronta alla sinistra continuiamo a farla guardare dal buco della serratura che loro si divertono così a questa nazione quello che merita allora domenica e lunedì regalateci ancora spero che ci regalerete ancora quel consenso perché penso che questa ragione meriti di mandare avanti il lavoro che è stato fatto fin qui e penso davvero che meriti di essere governata da una coalizione coesa e penso che sia per lei una grande occasione poter avere a presidente di questa regione un uomo come Marco Bucci viva la Liguria viva l'Italia viva fratelli d'Italia grazie 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 grazie